Punti di vista ben ritrovati, il talk show delle Marche, per farvi capire di cosa e di chi stiamo parlando questa sera, riassumo rapidissimamente una piccola storia, un piccolo aneddoto. Un ragazzo, un ragazzino che arriva nei pressi di Monaco di Baviera e inizia a fare il garzone d'albergo, adesso non si offenderà, a portare su i clienti nella stanza, a mostrare la stanza, aspettando e sperando nella piccola tips, cioè nella mancia come si dice in gergo. Oggi quel giovinetto lì, che aveva imparato in questo modo con questo stratagemma, lungimirante la mamma che lo costrinse in questo la lingua tedesca, oggi quel giovinetto lì è Mr. Eden Viaggi, per fare un paio di cifre, diciamo 305 milioni di euro del fatturato, più di 400 mila italiani che viaggiano grazie ad Eden Viaggi. Perché ne parliamo? Perché questo signore qua è marchigiano, è pesarese e noi vogliamo conoscere la sua storia. Per cui la ringraziamo ancora di aver accettato questo invito, so anche che non sempre, insomma non è capitato spessissimo di parlare dalle marche per le marche e quindi per noi questo è un motivo di grande piacere. Ho detto qualcosa di sbagliato, è vera questa cosa? Non è una favola, è la realtà e quanto di quel giovinetto c'è oggi nella quotidianità dell'affrontare il servizio del cliente ce lo sta raccontando. Perché il trucco è quello di avere la visione di quello che può desiderare il cliente da cui siete praticamente di fatto degli esportatori di emozioni. La parola emozione è già uscita in questa serata e ne parleremo, però siamo rimasti prima del break, la promessa va mantenuta, a questo aneddoto. Perché Nardo Filippetti poteva creare una struttura alberghiera nei pressi del Palazzo delle Nazioni Unite New York City, New York e invece ha scelto un'altra città. Noi diciamo ma dove allora se non New York, Londra, non lo so, Parigi, dove, quale altra città ha scelto meglio di New York, lo possiamo dire di nuovo? Beh non è che è meglio di… è che noi l'abbiamo fatto a Pesaro, a Pesaro, dove c'è attualmente il primo albergo a 5 stelle della regione Marche. Sì, il primo albergo a 5 stelle, adesso mi sembra che ce ne siano altri magari che emulassero e ce ne fossero sempre di più nel territorio. Ma perché? Ma non è che era partito per fare onestamente in 5 stelle, era partito perché era l'albergo nel quale io, diciamo così, professionalmente mi ero formato perché lo gestivo da quando avevo 21 anni, 22 anni e poi nell'evoluzione dei tempi è sempre rimasto lì, l'ho fatto gestire dai miei collaboratori e manager, arrivò il momento in cui la proprietà lo volle cedere, io nemmeno ci pensavo perché ormai era talmente proiettato nel futuro dello sviluppo dell'Eden Viaggi che gli alberghi così in gestione non erano più nel DNA. Era più il core business diciamo. Esatto, era più il core business principale, però mosso da un'affettività, da ricordi, siccome io spesso vado a camminare piuttosto che non a correre una volta lungo il mare, poter passeggiare o dover passeggiare vedendo quell'albergo nel quale io professionalmente ero nato che lo poteva gestire qualcun altro, ho detto no vabbè lo prendiamo e fece un'offerta, rilevamo questo albergo, lo lasciamo per un po' di tempo così e poi pensai di ristrutturarlo. Era partito per fare un albergo di buon servizio, 4 stelle perché comunque la riviera adriatica non è caratterizzata per l'albergo di 5 stelle, clienti che possono spendere certe cifre sicuramente se non per caso vengono alla riviera adriatica perché è percepita come un turismo prevalentemente di massa e quindi in linea un po' con quello che era il mood, il colosso, il target del territorio. Poi preso un giorno, preso quell'altro, metto una cosa che mi piaceva, non ho fatto fare tutto agli architetti, agli interior design, ma ho messo il mio, tutti mi hanno guardato, se lo dice lei a me piace il bello e poi è arrivato a spendere una cifra importante che qualcuno in quel periodo mi disse, ma sai che c'è a New York vicino all'ONU la possibilità di prendere in gestione un albergo e di costruire un albergo con gli stessi soldi che hai messo qui all'eccesso? Per poco svengo, ormai ero lì e poi sono contento, oramai c'è, serve anche di immagine per tutto il gruppo, abbiamo avuto tanti apprezzamenti, fortunatamente ci è voluto un po' di tempo perché far funzionare l'albergo 5 stelle, considerando che ha poco spazio intorno, che non ha il verde, le piscine esterne, ma solo una spiaggia di pertinenza di fronte, è stata una grande sfida, che oggi possiamo dire vinta, però ci sono avuti 6 anni e fortunatamente perché era il gruppo che era forte e solido perché aspettare un ritorno di investimento 6 anni per portarlo a regime, perché il ritorno di investimento... Non è Dannardo Filippetti aspettare 6 anni, abbiamo capito. Esatto, il ritorno sull'investimento ci prestano i miei nipoti, quella è un'altra cosa. Però è anche un modo per tornare un po' alle origini e rivendicare queste origini marchigiane, lei è fiero di essere marchigiano di CADC? Assolutamente, è vero, è vero di essere marchigiano, piacere, pesarese, perché io sono andato a peso, ma in questa competizione fra la Romagna e le Marche, che è nemmeno competizione turistica, la Romagna ha un altro tipo di attività, un altro tipo di prodotto, sempre turismo, ma ci sono tanti modi di fare turismo. Noi facciamo un turismo che era sempre stato beffeggiato negli anni passati perché i grandi numeri li facevano lì, e i grandi numeri li fanno ancora lì, ma la sensibilità che abbiamo noi, il tipo di turismo, la cultura che possiamo offrire noi, i luoghi e il bello che c'è nelle Marche non è paragonabile, o meglio, l'Italia è bella tutta e ognuno ha le sue caratteristiche, ma noi non possiamo pensare di fare il turismo romagnolo nelle Marche. Ritengo che noi abbiamo una nostra identità che comincia ad essere fortunatamente riconosciuta, investimenti in termini di comunicazione, ne sono stati fatti molti, e io ho orgoglioso di appartenere a Pesaro e alle Marche, piuttosto che non, diciamo così, alla Rimini e alla Romagna, sono nato qui nel territorio, altrimenti sarebbe già andato a Milano, Roma, dove fra l'altro era un'evoluzione naturale, per noi spostare le sedi a Milano sarebbe stato forse più semplice a livello di comunicazione che non restare a Pesaro, ma è stata questa radicalità, le radici appunto al territorio che ci hanno spinto a mantenerlo qua. Questo le fa onore anche perché la domanda magari è scontata, ma la risposta spesso no, perché altri ospiti con numeri simili ai suoi, insomma con una storia imprenditoriale simile alla sua, hanno detto no, oramai fatto un certo percorso, mi sento più cittadino del mondo, altri personaggi rispondono in modo diverso dal suo, invece no, in questo caso ci fa piacere. No, appunto, essendo poi l'azienda dei servizi, non ha bisogno di stare radicato in un territorio, ma dove può avere più relazioni, perché noi comunque vendiamo comunicazione, immagine, e il fatto che qualcuno venga da Pesaro piuttosto che non da Milano si fa molto, ed è molto più facile scalare, sempre che si sia seri, da Milano piuttosto che non da Pesaro. Però forse prendiamo il buono, abbiamo sempre avuto quella tigna, come dicono qualcuno, che essendo venendo appunto dai confini delle grandi metropoli, uno deve dimostrare che anche a Pesaro, anche nelle periferie c'è capacità e non è solo il fatto perché stai a Milano. Ha più volte utilizzato il termine appunto emozioni, nel corso di questa serata mi sa che è la parola più gettonata da parte sua. Vogliamo spiegare allora come nasce, perché lei è un esperto in emozioni, no? Il pay off, spieghiamolo a chi è a casa, ho riminiscenze universitarie, l'esame di marketing, e il pay off ci sarebbe lo slogan, il sottotitolo, il logo, e poi c'è il pay off. Il pay off si chiama, e appunto è questo, esperti in emozioni, come nasce questa cosa? Nasce perché, così, riflettendo un po', dovevamo trovare un pay off, un qualche cosa, la vacanza più bella, tutte cose un po' banali, e invece ci siamo appropriati di questi aspetti di emozioni, perché fare un viaggio è sempre un'emozione, l'emozione parte già dal momento in cui pensi dove andare, un'emozione è quando hai pagato, un'emozione è quando stai facendo la valigia e dici ma chi incontro? Ma non è l'emozione di trovare una cosa stupefacente, o Tostelle o l'albergo Tostelle o l'aereo più grande del mondo, l'emozione è quella di trovare luoghi e persone diverse da quelli che si è abituati nella quotidianità ad incontrare, quindi è una sequenza di emozioni che ti dà solo il viaggio, perché nella quotidianità sono poche le emozioni che trovi nell'ufficio con il quale condividi 360 giorni all'anno, la quotidianità con i tuoi colleghi, piuttosto che non in famiglia, con tutto rispetto, delle emozioni che possono dare un movimento di un figlio o cose del genere, o la nascita di un figlio, ma sono grandi cose. Il viaggio invece c'è quel senso di adrenalina, quel senso di chi incontrerò, farò nuove esperienze, come sarà il luogo, sono tutte cose che dal momento in cui uno parte loro può dare solo il viaggio, quindi ho pensato che è un'esperienza emozionale quella del viaggio e ci siamo appropriati, come dicevo prima, di questo pay off. Aggiungo un elemento, mi permetto, essendo un viaggiatore anch'io, nel mio piccolo chiaramente, il nostro ospite Filippetti ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, anche di meno. Con la mamma col fiere poi. Esatto, però non solo chi incontrerai, ma chi in te stesso incontrerai. A me per esempio è successo di scoprirmi diverso e nuovo nei posti dove sono stato, in particolare in India, l'India mi ha completamente sconvolto la vita, più volte, ogni volta che sono andato mi ha risconvolto, tanto che, e questa è una mia frase, di pay off rispondo in pay off, il viaggio non è un luogo dove vai, ma un momento in cui sei. Questa gliela volevo condividere, l'ho tweetata un anno fa, è stata piuttosto piaciuta, diciamo, perché se la cito, l'ho sudata, però gliela avuto lì. Potremmo più appropriarcene, basta che non ci chiedi i diritti. No, 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 tanto è su Twitter, quindi la può scopiazzare tranquillamente, anzi mi farebbe solo che piacere. Un viaggio non è un posto dove vai, ma un momento in cui tu sei, perché tu sei, vabbè, basta, ho spiegato, ho spiegato. È l'esperienza che trasforma la vacanza in qualcosa di indimenticabile? È la vacanza che trasforma te per l'esperienza che hai vissuto? Ah, questa è bella, mi ha risposto così… La sintesi, io sono un uomo di sintesi, è di poche parole, è di poco dialogo, però cerco di cogliere appunto nella vacanza, quando vado si cresce, perché si cresce quando si conoscono persone nuove, perché ci si confronta con altri, si cresce perché si vedono cose nuove, si cresce perché si assaggiano cose nuove. Ecco, questo qui è tutto un sapere, tutta un'esperienza che io ritengo e penso, per le esperienze che ho vissuto io, che il viaggio sia un completamento e un arricchimento di tutte queste cose. Per quanto riguarda invece, poco fa ne ha un pochino parlato, cioè il rapporto tra Marche e Emilia Romagna, la nostra regione, io vorrei parlare un attimino di sistema turismo, perché abbiamo detto che le Marche non sono più, non devono essere più la cosiddetta New Tuscany, come un po' ci avevano definito, schiacciando un po' le nostre prospettive, le nostre potenzialità, non siamo chiaramente l'Emilia Romagna, io ricordo un precedente politico importante a livello marchigiano, noi non saremo mai un divertimentificio, questo diceva l'allora governatore Gian Mario Spacca, però non siamo ancora a livello di turismo marchigiano al top, i numeri lo dicono, la domanda allora è come riuscire, magari facendo sistema, visto che lei è esperto nel settore, come si può colmare il gap? Ci dà qualche consiglio al volo? No, è difficile, possiamo fare delle riflessioni insieme, è difficile innanzitutto in questo paese riuscire a fare sistema. Se pensiamo che in Italia ci sono 33 mila alberghi con una media di 28 camere ad albergo, vuole dire che è piena e pullula di piccoli imprenditori, non c'è un grande attore come può avere espresso negli inizi del Novecento e quindi ad evolversi la famiglia Agnelli nella metallurgia, nella meccanica, così Pirelli, grandi gruppi gestiti da grandi persone, personaggi, grande cultura, ma tanti piccoli albergatori dove la differenza la fa appunto per loro, il fatto che pur essendo a 10 metri ognuno ha una diversità dall'altro, quindi è una competizione continua per peanuts, per poche cose, non c'è il senso dell'aggregazione, quello dell'andare a proporsi insieme, quindi non si può più proporre un albergo da solo, si può proporre solo un territorio, quindi nelle marche oggi abbiamo anche una recettività con tutto rispetto, a parte alcuni, ma l'80% degli alberghi non rispondono alla domanda che è evoluta rispetto agli anni 70, riproponiamo la stessa camera all'albergo con le stesse dimensioni, con un concerto, un arredo e un mood dove la gente ha un arredo migliore e più bello a casa sua, spesso negli anni 70 quando si andava in un albergo diceva che bello, perché a casa si viveva forse meno bene rispetto a quello che era il mood o l'arredo di un albergo, oggi sono alcuni fatiscenti, alcuni lasciati così all'abbandono, dicono che non c'è la domanda, ma la stagione è corta, per cui con una stagione corta non si sviluppano nemmeno le professionalità, perché se uno deve dare lavoro a un cameriere per due mesi, se lui è un bravo cameriere non può lavorare solo due mesi, bisogna che vada a cercarsi il posto di lavoro altrove e il mondo pullula di grandi manager italiani del turismo, cominciando dalle grandi catene Hilton, chi più ne ha più ne metta, starbù e se via dicendo, ma perché proprio nella nostra natura, nella nostra capacità, quella del senso del bello, quella dell'ospitalità, quello di essere a disposizione dell'altro, poi qualcuno si è voluto e ha fatto una professione da manager, come dicevo prima, di grandi aziende, qui invece sono piccoli imprenditori che difficilmente insegnano, perché è come l'artigiano, l'artigiano è geloso del suo sapere e difficilmente lo comunica, così l'albergatore, perché ha paura che se insegna qualcosa al suo segretario che poi fa tutto lui, la caratteristica, l'alberghi 28 camere, 30 camere, faccio io, mia moglie, mio figlio, viviamo tutti lì come se fosse tra virgolette un ristorante e migrare il sapere e organizzare poi a livello industriale non solo la cultura alberghiera, ma il territorio per proporsi al turismo penso che sia un'impresa ardua, il solito problema delle marche al plurale, dei campanili, degli orticelli, dell'Italia però, che si può diffondere anche all'estero è così? No, all'interno c'è più concetto di sistema, c'è più un concetto di aggregazione, c'è più un concetto di fare le cose insieme, in Italia non so, mi sembra che il referendum che c'è stato l'altro giorno anche di due comuni vicino a Pesaro, che mi sembra che abbiano uno 950 anime e uno 1300, hanno chiesto e hanno votato no all'aggregazione a Pesaro, sono comuni dove non riescono nemmeno… Pesaro con Montecchio e Urbino con Tavoletto, ecco bravo, scusi, solo per cercare di rafforzare il concetto che io a casa mia solo, magari muoio, ma da solo, che è oggi inimmaginabile e a livello di costi, a livello di comunicazione e a livello di fallimento, il fatto che uno da solo piccolo possa competere nella oggi globalizzazione. Lei si arrabbia spesso in azienda, dico, come leader, è uno che usa… Stamattina sono passato a un nuovo albergo che abbiamo aperto, che l'hotel Nauti lo si ha appeso… Di cui parliamo tra poco, attenzione che c'è una roba… Perché hanno aperto proprio ieri, allora spesso un mattino vado ancora lì e certo mi arrabbio quando ho delle cose che non funzionano, perché? Perché ho dei manager, dei collaboratori con i quali la cosa, come dicevo prima, non è che impungo, l'ho condivisa, nel momento in cui viene condivisa io in teoria non dovrei più controllare, perché se sei un manager e se vuoi vedere a controllare dove hai messo il panino, faccio perdere una sciocchezza, ecco, lì ancora hai manager perché l'abbiamo detto ieri, condiviso ieri e stamattina non fai quello che abbiamo condiviso. Dopo lì mi arrabbio, qualcuno dice che sono… sì, che mi arrabbio facilmente, però fortuna ancora che mi arrabbio, diciamo così, perché mi diverto e mi piace. La domanda è questa e l'anticipo era dovuto in questo senso, quanto l'ha fatta arrabbiare la notizia della Build di ieri l'altro, secondo… Sto attratto sui amici tedeschi, dove lei ha mosso i primi passi nel settore, che c'è questo allarme terrorismo nelle spiagge italiane e spagnole e quindi i cosiddetti presunti Vucumpra sarebbero camuffati, in realtà si tratterebbe di cellule ISIS cani sciolti che poi andranno a fare danni nelle nostre spiagge, poi notizia smentita categoricamente dall'intelligence italiana e spagnola. Si è un po' arrabbiato l'altro ieri… Sto cercando di contenermi, sto cercando di contenermi perché il Build Zeitung, per quante letterature o copie giornali possono aver perso in termini di letteratura, ancora 3 milioni e mezzo di letterature, per cui è il giornale più letto in Germania. E ha avuto poi un'eco mediatica questa notizia mondiale, globale. Però non si può chiedere scusa, bisogna far pagare i danni perché un giornale di quell'opinione e di quella levatura non si può permettere di dire una sciocchezza perché gli hanno detto che quelli dell'intelligence… ma io ricordo che con i tedeschi, soprattutto con la comunicazione del Build, dove anche amici tedeschi non condividono la comunicazione soprattutto aggressiva, ma il terrorismo mediatico non è solo da Build Zeitung, è un po' la stampa in generale, la cattiva notizia fa più notizia, per cui voi dovete vendere notizie, voi intendo mondo giornalistico. Questo è verissimo, la regola è la buona notizia, non è una notizia. No, è una notizia, piuttosto che morire o essere ammazzato, quella persona non c'è più però, per rendere semplici le cose. Sicuramente arrabbiato, però a questo livello qui, mediatico, dove i tedeschi sono i più grandi clienti in questa parte di mondo, parliamo, a cui tutti attingono dalla Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la Grecia, non ne parliamo noi, uscire con una cosa di questo genere, non capisco politicamente, posso anche capirlo, ma mi esimo da esprimere un giudizio, un concetto, lo Stato nostro o qualcuno all'interno della comunità, degli Stati a cui questi hanno additato cose di questo genere, piuttosto che non parlare di quello che potrebbe succedere o succede a casa loro, sempre infangare quello degli altri, soprattutto in periodi dove la gente comincia a pianificare, a programmare le vacanze, non so a che cosa miri. Allora forse lì un'indagine un po' più approfondita è dare sanzioni a tutela del nostro lavoro, ma non nostro e mio di impresa e dei viaggi, ma a tutela del mondo del turismo, dei quali la Spagna, l'Italia e la Grecia vivono, Spagna e Grecia in modo quasi totale, in forma del turismo. L'Italia anche, perché siamo al 12, 11, 50% del PIL, una presa di posizione in maniera forte, penso che dovrebbe essere presa. La ringrazio anche per la franchezza e la chiarezza, addirittura si dovrebbero chiedere i danni, questa è la sua sensazione, però in generale comunque al di là della uscita di campo da parte della BILD in generale il problema c'è. La domanda è come l'affrontate questo percorso, al di là della telefonata che ci può stare di chi ha prenotato una vacanza e dice io sono un pochino preoccupato, come l'affrontate questo argomento a livello della struttura AIDAN? Ma non l'affrontiamo, facciamo finta di non ascoltare, andiamo avanti perché ci dovremmo mettere a fare politica, dovremmo stare tutti i giorni lì a tirare la giacca del Ministro che faccia una comunicazione e più se ne parla, più diventa noto per colori che non l'hanno visto, quindi fare una smentita su una comunicazione così accattante, l'esperienza mi ha insegnato che è meglio stare zitti e buoni perché poi la gente dimentica, l'importante è che non se ne parli oltre perché altrimenti diventa poi difficile da gestire, ma in esperienze passate quando qualcuno ci attaccava, noi come AIDAN piuttosto che non anche in altri momenti, la reazione primaria è quella per il carattere mio, è quella di reagire subito a muso duro, poi il tempo mi ha fatto capire che se tu non gli dai, non l'ascolti e fai finta di niente, scema, muore da solo e la miglior cosa è l'indifferenza. Tra poco torniamo a parlare di cose belle, l'ultimissima cosa, un inciso, lei che viaggia quotidianamente, costantemente, un pizzico di… io per esempio sono un po' preoccupatino ma perché io sono un po' impavido, lei quando va in aeroporto in generale, Frankfurt, London Stansted Airport… Le metropolitane di Londra e di Parigi, che cosa c'è più oggi di insicuro, forse oggi diventa più sicuro una vacanza al mare a Charme che è così monitorata e così attenta piuttosto che non stare nella calca di Parigi e di Londra, ma come si fa a non vivere e vivere con la paura, dice vabbè io sto a casa mia, ma vuol dire comunque rinunciare a vivere, io sarò perché sono un incosciente, non ci penso, sono fatalista, vado, non mi preoccupo proprio assolutamente, diciamo che sono incosciente, che devo dire, non lo so. Tradotto, se ci limitiamo da soli la nostra libertà hanno già vinto loro prima di vincere, su questo sono d'accordo, poi tradire il fare però complimenti anche per questo spirito. Noi viviamo in Tunisia, abbiamo quattro villaggi in Tunisia che abbiamo completamente chiuso, definitivamente perché i danni, tra virgolette, che è vero che ci sono stati attentati molto importanti, però sono riusciti ad ottenere quello e c'è un insorgere oggi della forza lavoro tunisina per cercare di creare un'alternativa perché gente che viveva solo di turismo potete immaginare che l'anno scorso chiuso come hanno vissuto quest'inverno e quanto tempo riuscirà a reggere uno Stato e un Governo, una situazione di tensione come quella, se non si fanno intermenti radicali? Anche questo è un fattore da prendere fortemente in considerazione. Ci fermiamo un attimo e poi il gran finale perché c'è un'altra chicca nella storia di questo giovinetto, ormai mi sono affezionato a quell'immagine che iniziando in un albergo presso Monaco di Bavera ha dato oggi e dà la possibilità a quasi mezzo milione di italiani di vivere un sogno perché c'è una frase molto bella che voglio ricordare sul tema del viaggio e tra poco è una chicca che vi darò, c'è nella storia di Eden Viaggi un'altra avventura, quella dell'albergo in legno più alto d'Europa. dove sarà quest'albergo, come sarà fatto un grande albero dentro cui stanno le persone, come funziona una roba così? Abbiamo anche delle immagini in questo senso ma vi racconteremo tutto tra poco perché la vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.